Radio Studio MGMT che non è una nuova droga sintetica ma è il nome del gruppo Time to Pretend appena ascoltato questo Radio Studio House all'interno del come si chiama il programma? e poi pensate gli MGMT sono in realtà le ceneri di un gruppo famosissimo degli anni settanta stiamo parlando dei The Woo e dei Deep Purple si è unito a loro Richie Sambora e hanno formato insieme gli MGMT quando facevano serate nel Cincinnati in Arizona passando per Cincinnati Theater di Oklahoma City si chiamavano i Back Door all'epoca esatto in Colorado suonavano tantissimo ad Atlanta si sono esibiti molto bene ma adesso non è questo il momento di parlare né di loro né dei Righeira perché dobbiamo cercare pensate un po' Mauro Repetto chi ha visto Mauro Repetto? chi ha notizie di Mauro Repetto? andiamo andiamo andato lo cerchiamo per tutto il territorio italiano lo troveremo vai Mauro Repetto pronto? pronto buongiorno c'è Mauro? si sono io e ciao sono Alessandro Mauro come stai? Alessandro? Alessandro come stai? e non capisco che è Alessandro eh sono Alessandro Alessandro Piermarini ti ricordi? ci ha presentato Max Massimo ti faccio una cosa per farti ricordare ti faccio cantare una canzoncina guarda come vai? ma chi sarai? per andare in te tutti insieme a un dito nevare ad aspettare ti sei ricordato? eh no aspetta ora rifacciamo come vai? ma chi sarai? su stare dietro te tutto intero senza la sboda ma Alessandro di dove? dai siamo noi ci hai riconosciuto dai siamo Alessandro Stefano Claudio sinceramente ma forse aspetta forse tu non ci hai ancora riconosciuto no eh no allora ti diamo un aiutino senti questa nazi dove stess che forse è quel che c'è cerco tuas re oh 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 nazi da nina ma io sinceramente non vi conosco ma no dai Mauro ma non è possibile che non ci conosci cazzo ma Alessandro quale? ah dai Mauro ma stai scherzando ci sta prendendo in giro no ti giuro ma dai scusa Mauro ma siamo gli altri ballerini del corpo di ballo degli 883 grandissimo Mauro siamo tutti gli altri ballerini del gruppo siamo gli 883 ti ricordi la tournée che abbiamo fatto lì in Wisconsin ma guarda chi si sta sbagliando lei eh ma sei Mauro ma sono Mauro di Canta***o eh ma Canta***o c'è stata la la terza serata del Festival Bar nel 92 all'arena di Verona di Canta***o pensa Mauro Repetto ci stai facendo lo scherzo noi comunque ti volevamo solo salutare e ti vogliamo e ti vogliamo bene ti ricordiamo sempre con amore e torna presto insieme a Max Pezzali va bene? se chiaramente ragazzi io non vi riconosco va bene non fa niente non fa niente ciao Mauro great croc radio 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 stai facendo lo scherzo e ti voglio che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è